E poi vedremo chi ti ferà chievo per Verona Cesena 8 minuti, Shalana io ne approfitto, è stata la sponda giallorossa con Massimo Bagnato Benvenuto Massimo, abbiamo già salutato Claudia Magna Bosco e Napoli Francesco Albanese e Shalana Santana Attore esterno della rete Mi sono mangiato un gol, è impossibile Sì, e l'orchestra Casadei che invece tifa Cesena Vieni, vieni, andiamo, andiamo, vai, 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 tutti, tutti a cantare Lato, tutto materiale rispagnato, riciclabile E questo è il simbolo dell'Italia Lata